Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con la Meteo di TV6. L'alta pressione in momentaneo rinforzo ne consegue un netto miglioramento del tempo su gran parte d'Italia. Ancora qualche nuve al sud ma senza fenomeni annessi. Tuttavia ad ovest notiamo già tanta nuvolosità che è in lento movimento verso l'Italia, quindi porterà proprio nel corso di questo giovedì a un aumento della nuvolosità un po' ovunque. In Abruzzo sarà una giornata comunque nel complesso stabile, non avremo precipitazioni, però avremo tante nubi medio-alte che non porteranno alcun fenomeno. Qualche sprazzo di sole in più sul Terramano o sull'Aquilano settentrionale. Le temperature in lieve ripresa massime tra i 5 e 10 gradi, millimetro a meno 2-3 gradi, quindi comunque temperature da pieno inverno. Grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.